cari amici di androidblog.it ciao a tutti dal vostro alessandro dunque oggi grazie allo store online mobilefun.it tenetelo bene a mente che trovate un sacco di cose molto interessanti abbiamo la possibilità di mostrarvi un interessante cover per il galaxy note 2 quindi n7100 allora cover dedicata come potete vedere dedicata al note 2 della mobile case è una cover rigida ora vado a vedere è una di quelle che io preferisco lo stesso tipo che avevo anche sul galaxy nexus di cui sono stato assolutamente contentissimo allora andiamo intanto a tirarla fuori benissimo allora la prima cosa vabbè lo vedete è una cover rigida io non so se si riesce ad apprezzare dalla ripresa video ma è eccezionalmente sottile è veramente una cosa impressionante credo che non arrivi neanche al millimetro di spessore è veramente eccezionale questa cover il peso praticamente non ne ha praticamente zero ma veramente la sua la sua dimensione di spessore è veramente nulla molto molto bella inoltre purtroppo dal video non si apprezza forse si capisce si può supporre però ha una lavorazione è una cosiddetta texture molto particolare ha come un effetto tessutato molto bello che ha un è abbastanza antiscivolo ma devo dire ha un effetto molto bello sembra di toccare quasi del vellutino non so come definirlo comunque sia un effetto tipo tessuto andiamo a vedere come sta sul note vedete metterla è estremamente semplice si incassa da una parte si entra dalla e si incassa e scusate si aggancia dall'altra come potete vedere è praticamente come se non ci fosse devo dire eccezionale rimangono molto molto bene tutte le porte aperte abbiamo la penna la porta micro usb l'altoparlante videocamera e il flash tutto bene a vista sopra lo stesso per il jack e per il microfono tra l'altro mi sono accorto che era anche chiuso male perfetto e che dire assolutamente bellissima devo dire ovviamente i tasti mi sono dimenticato ripeto penso che si possa apprezzare mi piace un sacco bello questo colore grigio direi fumo di londra mi piace un sacco con il bianco perché non lo rovina da un bel effetto in mano è molto bello forse si capisce meglio da qua adesso vedete lo spessore è veramente insignificante si forse forse non arriva neanche al millimetro di spessore comunque veramente veramente molto bella se siete interessati all'accessorio che ripeto mi sembra di una qualità veramente eccezionale e diventerà sicuramente uno dei miei accessori principali preferiti trovate lo potete acquistare direttamente sul sito mobilefan.it il prezzo è di 16 ore 49 in fondo all'articolo in fondo all'articolo troverete il link diretto per poter effettuare l'acquisto per il momento cari amici di androidblog.it è tutto vi rimando al prossimo video ciao dal vostro alessandro